Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Aldo Palazzeschi di Patrizia Poli Aldo Palazzeschi, nato nel 1885 e morto nel 1974, ha dedicato ai nostri bagni pancaldi un pezzo memorabile, pubblicato in stampe dell'Ottocento, Fratelli Treves, Milano, 1936. È davvero una stampa la sua, descritta con gli occhi stupiti di un bambino che il primo d'agosto, in una giornata torrida, sudato fradicio, viaggiando in carrozza e in vagone, ferroviario insieme ai genitori e alla donna di servizio, giunge alla porta a mare di Livorno dove vede per la prima volta la distesa azzurra, spumeggiante e le creste bianche delle onde. Durante il viaggio, sua madre ha chiacchierato tutto il tempo con una dama vistosa, la quale ha descritto nei minimi particolari la vita che si svolgerà sullo stabilimento mondano e lussuoso, luogo di tutte le delizie e le primizie, spettegolando sulle signore che lo frequentano, sul numero dei vestiti, delle scarpe e dei cappelli di questa e di quella. Non è difficile immaginare l'aria calda e salmastra, il sole rovente dal quale le signore si proteggevano con l'ombrellino, le marchese, le contesse, le attrici, le cantanti ingioiellate, che passeggiando sfoggiavano ogni giorno una toilette nuova. In primis una principessa che arrivava addirittura con 28 bauli, 100 vestiti e 200 paie di scarpe. All'alba si facevano duelli segreti e dopo se ne parlava con un brido d'emozione. Oltre e soprattutto, indifferente, il mare. Il mare, scrive Palazzeschi, era calmissimo, profondamente azzurro e pariva adagiato vittoriosamente dopo una gara col cielo a chi lo fosse di più. Nel cielo non era che il sole e riempiva tutto col suo calore e nel mare un gruppettino di vele bianche in fondo, 5 o 6, e certe spumettine candide verso la riva, fiocchetti di cotone, che apparivano e sparivano come delle fessure di una veste. Potete riascoltare questa puntata in on-demand su www.livornomagazine.it e nella sezione Flashtube di www.radioflash.info www.livornomagazine.it